Non ho fame. Guarda che ti capisco. Ti giuro che ti capisco. Non permetterò più a nessuno di farti del male. Io nemmeno. Ok, vado a fare la doccia, va bene? Sì. Vai, ti aspetto qui. Vado a fare la doccia, va bene? 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 Chi è? Non lo so. Non ho guardato. È lui. Rispondigli. Sei impazzito? È l'ultima persona con cui voglio parlare. Bianca, dammi retta. Se non gli rispondi, lui è capace di chiamare l'FBI pur di trovarti. Potrebbe pensare che ti è successo qualcosa. Rispondi. Pronto. Dove sei? Sono molto preoccupato per te. Dimmi dove sei e mando qualcuno a prenderti. Sono in un... in un posto sicuro. Un posto dove desidero stare. Ti prego. Perdonami. Sono stato un animale. Tu lo sai che non... La verità è che non so che cosa mi sia preso. Io non sono così. No, diciamo che mi hai dimostrato di avere i tuoi lati oscuri. Amore mio, volevo solo stare con te. Io ti amo. Questo non è amore, Ariel. Forzare una donna è esattamente il contrario dell'amore. Non ho giustificazioni, lo so, ma ti prego di perdonarmi. Amore mio, ti prometto che mai più ti farò del male. Sì, di questo ne sono sicura. Ti prego, cara. Non è il momento di prendere nessuna decisione. Ariel, per cortesia. Sappi che in questo momento le uniche cose di cui ho bisogno sono pace e tranquillità. Quindi te lo chiedo per favore, rispettalo. Torna a casa. Vorrei spiegarti e aiutarti a sanare tutte le tue ferite. Non ti voglio vedere. Va bene. Sì.